Vogliamo cominciare allora? È meglio, va alla lavagna e scrivi un'espressione algebrica a tuo piacere. Sai che piacere? Sì, Gesso lo sa? Eccolo. Vado, eh. Dopo quel tema, trovo... Quel tema è il formatorio. No, certo, ma non l'hai visto un ragazzo così. Ecco fatto. Ma, e che cos'è? È l'espressione algebrica, quella che ha detto lei. E ce la vuoi spiegare? Certo che ve la spiego. Allora, più, meno, meno, più, vengo, meno. Per non venire più, meno, non me lo meno, più. O per lo meno, me lo meno di meno. E l'hai pure firmato? È certo. Torna subito al tuo posto! Prima di chiedere le cose, e poi se incaulano. Che vogliamo fare? Siamo alla geografia.